Il pilota del sport, guarda che abbiamo qui dietro le quinti della pitlane, un pilota che ha fatto qualcosa di interessante che purtroppo non tutti sanno ma comunque esistono anche altri campionati molto interessanti, 24 ore. Sì, abbiamo fatto l'aventura di Le Mans in piena scorta, era una bella avventura, stiamo andando pure molto bene, siamo tutti insieme a Pneum Panic, purtroppo siamo 15 ore e 44 minuti di gara, la moto è abbandonata e in 16 minuti che era la gloria abbiamo dovuto dire addio al nostro Tokyo di vedere la bandiera a scagliere dopo una gara così impegnativa, però fa parte del gioco, dai. Allora guarda, qui sei adesso chiaramente, sei perfettamente, sei con Slash Sport Network, allora vogliamo dire alla gente di qua, chi sei, il tuo nome, il tuo cognome e con che modo hai il corso? Sì, sono Stefano Fugardi, ho corso con una Yamaha R1 del team Abio Bike di Lodi. Ok Stefano, un'altra domanda piccolina, abbiamo accanto, vediamo una girl, una ragazza, immagine, ma vedo che giri sempre insieme a lei, ma possiamo fare uno scoop oppure c'è qualcosa di particolare? No, no, è la mia ragazza. Allora abbiamo finalmente scoperto chi è questa ragazza insieme a te. Senti, allora niente, ci vediamo molto presto, speriamo di rincontrarti nel paddock per farti un'intervista e darci qualcosa di più positivo ancora. Va bene. Grazie ancora, ciao, buona giornata a tutti, ciao, ciao.